Allora ragazzi, questa è una ripresa un po' rumorosa, perché sto proprio seduta sopra al motore e questo lo impugnava motore. Questa è la poppa, quello è il parabolo, non abbiamo visto il parabolo che si dà un po' di riduzione. Noi sono scalini stai, ma io sono colpato a me. Sì, io sono colpato a me, 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 io sono colpato a me. Io sono colpato a me, 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 io sono colpato a me. E adesso ci sono tanto motore, perché dobbiamo solo darci un po' di riduzione, ma non mi resta dalla sua volta. La volta è... Tutto gli auto, ecco, tutto gli auto, ma non ho un po' di riduzione, ma non ho un po' di riduzione. È un po' di riduzione, ma non ho un po' di riduzione. Al momento abbiamo 26 nodi di vento, per il pietro, 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 per il pietro. Non è che siamo andati a non essere una porta di mistero, ma adesso sono soltanto mi raccomando. E non è che siamo andati a nessuna propria, non è così che esprimabile. No, la una mucallaccia. Una forte. Dovete ne yüzde! Questa немного, non è confesita. Ha fatto una pelletazione, sta infani. È molto fortuna. E basta, però sono riuscita a bloccare la porta che sbatteva, quindi le cose continuano a rimanere più o meno stabili, la sedia di Carmen è l'unica che cammina, eccola Adesso stanno intendo andare giù, questa forse si è piaciuta, ma guarda che c'è l'acqua per i miei piatti stanno qua sopra, non trovo un po', ma le banane non sono cadute, e il mio baffè alla dottura stanno qua. Queste sono le radioline che ci mettiamo per comunicare, quindi quando ci parliamo non dobbiamo urlare, anche perché non ci sentiremo, per il rumore è l'unico ora. Ah, vedi la bottiglia? Vabbè, non ho voglia di più rischiudo adesso, ma si sentono un poco di rumore, ma non troppo. Insomma, dentro tutto bene, mentre fuori anche tutto bene. Questa è un pozzetto, qua dobbiamo pulire. Questa è un pozzetto, qua dobbiamo pulire. Vedete vedere se dove non è che non si vende, però è molto morbido ed è molto molto divertente. Ciao! Ciao! Ciao!